Un momento molto importante, quello di oggi abbiamo voluto con una tavola rotonda ricordare questi 20 anni dell'agenzia, 20 anni molto molto importanti perché la trasformazione in un'agenzia interregionale nel tempo non è stata facile, ma oggi AIPO è una realtà consolidata, ben strutturata, con delle professionalità, delle competenze straordinarie e tutti i giorni opera sui territori delle quattro regioni con grandissima attenzione, con grandissima efficacia, sempre a tutela dei cittadini e a difesa del nostro territorio. 20 anni importanti, ma ancora di più saranno importanti i prossimi anni, in particolare i prossimi tre anni, dove alla manutenzione ordinaria che è sempre fondamentale, che viene effettuata nelle quattro regioni, AIPO avrà anche la grande sfida del PNRR con progetti importanti, in particolare quello della rinaturazione del PO, che dovrà essere fatto a partire dal 2024. Quindi la nostra agenzia sarà protagonista, come sempre, e io penso che debba sicuramente maturare una consapevolezza diversa da questo Paese nel riconoscere la centralità di un'agenzia come questa, che veramente ogni giorno, proprio in virtù dei cambiamenti climatici brevi, intensi, questi episodi che colpiscono le nostre regioni, sia sempre più importante avere delle professionalità come quelle che lavorano in AIPO e che intervengono prontamente sui nostri territori. Come esistono le autorità di bacino che operano a livello di pianificazione, è chiaramente importantissimo riuscire a coordinare gli interventi mentre si realizzano. E questo, su un bacino idrografico complesso come quello del PO, è possibile soltanto con un ente unico. Questo ente nasce dalla tradizione del magistrato per il PO, che era un ente statale, è stato, secondo me, ottimamente sostituito dall'agenzia interregionale per il fiume PO, però bisognerebbe che lo Stato riuscisse ad intervenire in maniera un pochino più significativa perché noi siamo rimasti a livello almeno finanziario al 2003. Quindi sono passati vent'anni e stiamo facendo veramente molta fatica a riuscire a mantenere sia le opere di allora che quelle che man mano in questi anni sono state realizzate, che come abbiamo visto nel corso della tavola rotonda, sono molto significative perché ammontano a diverse centinaia di milioni di euro, anche queste vanno manutenute. Quindi noi ora siamo veramente in situazione di necessità finanziaria per poter mantenere queste opere. Anche per rispondere ai cambiamenti climatici che, specialmente sugli affluenti, ci stanno veramente mettendo a dura prova. AIPO difende un bacino forse il più densamente abitato del nord Italia. Ci sono comunità che dipendono interamente per la loro protezione dalla efficienza delle arginature. Immaginiamo ad esempio le città come Parma, come Modena, ma anche i centri abitati della Bassa, a ridosso del Po, sono tutti chiaramente difesi dall'arginatura di Po, che è l'unico baluardo che c'è contro le piene di questo fiume. Grazie.